Buonasera a tutti. Benvenuti per la recita del Santo Rosario qui alla Grotta di Massabielle. Vogliamo raccoglierci in preghiera, disporre l'animo affinché la nostra sia una preghiera del cuore. Non siamo qui certamente per apparire in televisione, ma vogliamo in modo particolare far sì che questa nostra preghiera non sia disturbata dai nostri telefoni cellulari. Allora vi prego cortesemente di fare attenzione, anch'io devo fare attenzione perché siano spenti e non disturbino la preghiera. Allo stesso tempo vi invito anche ad ascoltarci reciprocamente perché possiamo pregare insieme, non correndo, non rallentando, non ci sia chi fa del protagonismo, ma vogliamo dare la testimonianza di una comunità che prega. Grazie e buona preghiera. Grazie a tutti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amici carissimi, dalla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV2000 e il sito Internet del Santuario. Oggi, in modo particolare, come ogni venerdì, ricordiamo i giovani di tutto il mondo affidandoli alla Madre del Redentore. Ascoltare e seguire la voce di Cristo, buon pastore, lasciandosi attrarre e condurre da Lui e consacrando a Lui la propria vita, significa permettere che lo Spirito Santo ci introduca nel dinamismo missionario che susciti in noi il desiderio e il coraggio gioioso di offrire la nostra vita e di spenderla per la causa del Regno di Dio. Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre e Papa Francesco in questo tempo di sinodo sulla famiglia. Ricordiamo tutti gli ammalati e quelli che ci sono stati segnalati anche via e-mail, via telefono, e i cui nomi deponiamo nel cuore di Maria, l'Immacolata. Meditiamo questa sera i misteri dolorosi del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, l'agonia di Gesù nel Gezzemani. Cari giovani, vorrei invitarvi ad osare l'amore, a non desiderare cioè niente di meno per la vostra vita, che è un amore forte e bello, capace di rendere l'esistenza intera una gioiosa realizzazione del dono di voi stessi a Dio e ai fratelli, ad imitazione di colui che, mediante l'amore, ha vinto per sempre l'odio e la morte. L'amore è la sola forza in grado di cambiare il cuore dell'uomo e dell'umanità intera, rendendo proficque le relazioni tra uomini e donne, tra ricchi e poveri, tra culture e civiltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che era per noi e per noi, ad essi e la gloria della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che era per noi e per noi, ad essi e la gloria della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che era per noi e per noi, ad essi e la gloria della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che era per noi e per noi, ad essi e la gloria della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che era per noi e per noi, ad essi e la gloria della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, che era per noi peccatori, ad essi e la gloria della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Secondo mistero del dolore, la flagellazione di Gesù. Ogni persona avverte il desiderio di amare e di essere amata. Eppure, quant'è difficile amare, quanti errori e fallimenti devono registrarsi nell'amore. C'è persino chi giunge a dubitare che l'amore sia possibile. Ma se carenze di affetto o delusioni sentimentali possono far pensare che amare sia un'utopia, un sogno irraggiungibile. Bisogna forse scoraggiarsi. No. L'amore è possibile. Ravivate in ciascuno di voi che siete il futuro e la speranza dell'umanità la fiducia nell'amore vero, fedele e forte. Un amore che genera pace e gioia. Un amore che lega le persone, facendole sentire libere nel reciproco rispetto. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. L'amore è possibile. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore e il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore e il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore e il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che rega il mio cuore, che rega il mio cuore, adesso è il Signore della nostra morte, ame. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era, è il Signore, 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 è il Signore. Terzo mistero del dolore, l'incoronazione di spine. Come si manifesta a noi Dio, amore? Anche se già nella creazione sono chiari i segni dell'amore di Dio, la rivelazione piena del mistero intimo di Dio è avvenuta con l'incarnazione, quando Dio stesso si è fatto uomo. In Cristo, vero Dio e vero uomo, abbiamo conosciuto l'amore in tutta la sua portata, la manifestazione dell'amore divino è totale e perfetta nella croce, dove, come afferma San Paolo, Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ognuno di noi può pertanto dire senza paura di sbagliare, Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, che è per noi e per noi, adesso è il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto è con te, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quarto mistero del dolore, il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce. Cari giovani, sulla croce Cristo grida, ho sete. Rivela così un ardente sete di amare e di essere amato da ognuno di noi. Solo se arriviamo a percepire la profondità e l'intensità di un tale mistero, ci rendiamo conto della necessità e dell'urgenza di amarlo a nostra volta, come Lui ci ha amati. Questo comporta l'impegno di dare, anche se necessario, la propria vita per i fratelli, sostenuti dall'amore di Lui. Già nell'Antico Testamento Dio aveva detto «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma la novità di Cristo consiste nel fatto che amare come Lui ci ha amati significa amare tutti, senza distinzione, anche i nemici, fino alla fine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è in ordre della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è in ordre della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è in ordre della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è in ordre della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è in ordre della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è in ordre della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è in ordre della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è in ordre della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come è l'Ere, di Dio, e allo Spirito Santo. di Dio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero del dolore, Gesù è crocifisso e muore in croce. Redenta del suo sangue, nessuna vita umana è inutile o di poco valore, perché tutti siamo amati personalmente da Lui con un amore appassionato e fedele, un amore senza limiti. La croce, follia per il mondo, scandalo per molti credenti, è invece sapienza di Dio per quanti si lasciano toccare fin nel profondo del cuore e del proprio essere. Anzi, il crocifisso mette in luce le contraffazioni, le menzogne su Dio che si ammantano di violenza, di vendetta, di esclusione. Cristo è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e sradica l'odio dal cuore dell'uomo. Ecco la sua veritiera rivoluzione, l'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. La sua giusta, 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 che si ammantano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. e benedetto il frutto del Tuo seno, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amore. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce e do, espes nostra salve. Ad te clamamus, exul expilieve, ad te suspiramus, gementes et flentex, in ag lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos Tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris Tui, nobis, posto che cilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Donaci, o Signore, la forza di uscire ogni giorno dal nostro guscio, per essere presenti con te nelle periferie del mondo e delle esistenze, là dove si genera la vita, si realizza l'amore, si costruisce la strada della libertà, si lotta per la giustizia, si fa splendere un briciolo di verità, si allargano le stanze della speranza, per un mondo unito come te, Dio, Uno e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. O Maria, modello di evangelizzazione umile e gioiosa, fa che la Chiesa viventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli, e renda possibile la nascita di un mondo nuovo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Overa Regine Maria, Regina del Ciel, all'Urd ritorna il popol fedel. Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave Maria, Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo. iscriviti al代表. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti